Benvenuti nel video dedicati alle pens. Le pens sono questi triangolini che vedete all'interno del mio modello, dei tre modelli. Con TTCAD potete realizzare queste pens e posizionarle dove desiderate. Prendo come esempio un corpetto base di tipo A. Mi trovo nella pagina misure, vado a disabilitare il sormonto davanti e vado ad allungare il mio capo, 44 cm. Applico e vado ad aprire gestione parti. Mi trovo un davanti e un dietro. In questo video vi farò vedere come costruire una pen su questo lato del mio davanti. Seleziono la parte modificata così si vede più in grande. Prima però vorrei eliminare questo punto F perché nella mia costruzione non mi serve, è in più. Clicco modifica punti, mi si apre la pagina che mi dà la possibilità di modificare i punti. Vado a selezionare EF. Qui vedo che c'è scritto elimina punto F. Per sicurezza clicco prima mantieni entrambe le curve, quindi prima e dopo il punto F. Clicco, ecco qua che è andato via, confermo. Ora mi ritrovo ad avere un davanti punti. Seleziono perché è la parte su cui io voglio costruire la mia pens. Vado a selezionare pens e pieghe, mi si apre questa finestra. Questo video è dedicato all'opzione pens. Clicco, ecco qua, mi trovo nella pagina pens. Prima però vorrei introdurre una quota. Una quota non è altro che la misura tra due punti, in questo caso tra il punto E e il punto F, perché è il lato su cui io vorrei poi costruire la pens. Per introdurre la quota vado qui in alto dove c'è la Q, clicco, mi si apre questa pagina. Impostazioni quota, il nome, mi metto il nome dei punti EF. Il tipo seleziono misura lineare orizzontale, primo punto seleziono punto E, secondo punto, seleziono l'F. Lo scostamento mi dice che sono 3 cm. Lo lascio in questo momento. L'altezza 1,5 è il colore rosso. Lo lascio, però sappiate che potete modificarlo. Clicco, aggiungi una nuova quota. Mi indica che la distanza tra il punto E e il punto F sono 18 cm e vengono segnati in rosso i punti interessati. Però questa quota la vorrei spostare verso il basso, perché qui altrimenti è in mezzo poi per la costruzione della mia pens. Non faccio altro che davanti ai 3 cm, metto un meno. Vado ad applica modifiche ed ecco qua. Perfetto. Confermo. Quando ritorno nella mia pagina pens, per visualizzare la quota dovete abilitare mostra quote. Ecco qua i miei 18 cm. Ora vado ad applicare, applica una nuova pens alla parte o linea selezionata. Perciò devo prima selezionare diventa blu. Ora clicco e oltre alla parte originale ho anche la parte elaborata dove mi fa vedere la mia pens. Mi propone questa pens però io posso modificarla. Nella parte originale trovo questa tratteggiata. Questa tratteggiata sta a indicare il centro della pens, la posizione su cui si trova sulla linea e l'altezza della pens. Qui dove c'è scritto posizione linea mi viene indicato che si trova a 9 cm. Sapendo che la vita, che la linea EF è 18 vuol dire che la pens è piazzata, il centro della pens è piazzata a metà. Posso spostarlo. Se utilizzo il più vedo la pens, il centro della pens che si sposta a sinistra. Mi vengono indicati 15 cm. questi 15 cm indicano che dal punto E al centro della pens ci sono 15 cm. Riporto al centro a 9 cm. Ho anche la possibilità di aumentare o diminuire la lunghezza della pens. Mi è proposta a 9 cm, l'aumento a 15 cm. Anche l'ampiezza, quindi la base della pens, mi viene proposta a 1,8 cm. L'aumento e la porto a 3 cm. Ho anche la possibilità di modificare l'angolo. Semplicemente selezionando angolo rispetto alla perpendicolare alla linea. Mi vengono abilitati questi pulsanti. Mi viene indicato che rispetto alla perpendicolare è 90 gradi. Se clicco sul doppio più mi si sposta il centro della pens. Diventano 95 gradi e si è spostato di 5 gradi. Quindi ogni clic sul doppio più o il doppio meno si sposta di 10 gradi. Mentre col più singolo e il meno singolo si sposta di mezzo grado alla volta. Lo portiamo perpendicolare. Una cosa molto importante è questo parametro. Tipo correzione linea. Mi viene proposto dal programma sposta ugualmente i punti della linea. Vuol dire che i punti E e i punti F che in questa parte originale vuol dire che me li sposta uno a sinistra, scusate, uno a destra e uno a sinistra della metà della mia pens. In questo caso io ho una ripresa, una pens di 3 cm. Quindi ha spostato la lettera E di 1,5 e la lettera F di 1,5. E si vede proprio anche dal disegno. La E in origine era qui ed è stata spostata a destra. La lettera F era qui ed è stata spostata a sinistra. Un'altra cosa che vi faccio notare è che nella parte originale EF misura 18 cm. Mentre nella parte elaborata EF misura 21 cm. Perché sono stati appunto aggiunti alla misura originale i 3 cm della pens. C'è la possibilità anche di nessuna correzione. E qui sotto vedete che la misura EF sono 18 cm uguale a quella originale. C'è la seconda opzione, è sposta il primo punto della linea. La lettera E si è spostata a destra dei 3 cm. Sposta il secondo punto della linea, in questo caso, è il punto F che si è spostato a sinistra di 3 cm. La penultima è quella che vi è proposta all'inizio quando aprite il programma. L'ultima sposta proporzionalmente i punti della linea. Lo ingrandisco così lo vedete meglio. Non è cambiato rispetto all'opzione precedente. Semplicemente perché il centro della pens è proprio a metà della mia linea. Ma se io sposto la mia pens la vicino verso sinistra e quindi verso la lettera F, vedrete che questo spazio qui aumenta e questo diminuisce. Vado con posizione su linea col doppio più. Avete visto che questo spazio è aumentato e questo è diminuito. Se faccio col meno, quindi avvicino la pens alla lettera E, questo spazio aumenta e questo spazio è diminuito. portiamolo al centro. Attenzione a non uscire. Più 8. Una cosa anche molto importante che vi dà questa pagina, oltre a disabilitare correggi forma lineare, avete visto che è diventata dritta, è questa, tagliata. La pens normalmente è un triangolo all'interno del modello. Se io abilito taglia, diventa sempre un triangolo, però con dei punti. Il colore pieno non c'è più. Se lo appoggiate alla stoffa avete il modello tagliato e quindi potete segnarlo bene. Ma soprattutto è importante questa opzione esco con conferma. Qui ho una nuova parte che è questa con la pens tagliata. Se vado in modifica forma ho la possibilità, essendo dei punti, di modificare, quindi spostare qualsiasi punto della mia pens. E soprattutto la possibilità di cambiare il tipo di curva. Mi viene indicato che è un segmento, io posso abilitare, selezionare curva due punti, angolo manuale, angolo manuale e modificando l'angolo del punto G e del punto H. Ok. Vado a togliere il disegno originale. Vedete che è una curva. Vi ricordo che queste pens che vi ho fatto vedere le potete applicare in qualsiasi lato del modello. Spero di esservi stata utile. E ai prossimi video. Ciao ciao!